Il carri armato che vedete alle mie spalle è un T-55 sovietico, altro non è che un carri armato utilizzato nell'opera d'arte di Lorenzo Quinn, This is not again, che era esposto alla Biennale di Venezia nel 2011. L'Associazione Volontaria d'Europa, che qui rappresento, ha avuto la possibilità di avere l'opera in conto deposito e da circa un anno ha chiesto un po' in giro chi era disponibile ad accogliere quest'opera. Abbiamo avuto questa grande possibilità dal signor Scottà Evangelista, che per noi a questo punto è un vero artista e anche un mecenate, che ha accolto quest'opera nella sua collezione. Infatti il signor Scottà, oltre ad essere titolare dell'omonima azienda agricola, ha una collezione molto svariata di mezzi militari, dai camion americani a Jeep, Willys e anche varie campagnole, Fiat, per cui mi sembra che è il posto giusto dove poter dare visuale e valorizzare appunto questa opera. L'Associazione, oltre ad occuparsi di tutela ambientale, protezione animali, protezione civile e durazione sangue ed organi, ha anche quello di valorizzare la cultura storica dell'italiana e non. Per cui, quando abbiamo avuto questa possibilità di avere questo caro armato, non ci sembrava vero, la domandina fatta il 20 ottobre 2014, ha avuto il suo epilogo positivo il 20 ottobre 2015, un anno di differenza, e il signor Scottà ha accolto subito questa nostra proposta, per cui un grazie va soprattutto al signore evangelista che ci ha dato questa... E oggi, 3 dicembre, abbiamo questa opera in casa. Quindi grande appassionato di opere, il signor Scottà. Certo, appassionatissimo. E appunto avevo proprio il desiderio di averlo, questa bella opera, qua sulla mia collezione. Una soddisfazione in più. Eh sì, certo, certo. Benissimo, grazie. 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 Grazie.